L'Aigueglia, provincia di Savona. Qual è la Gallinara? Quale in fondo che si vede, si intravede è l'isola della Gallinara. Grazie. Medusa spiaggiata. Ufficio di Sanità Marittima. La Catedrale. Cupole arabesche che ricordano probabilmente l'invasione saracena ai tempi che fu. La Catedrale. 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 Il Centro storico di La Ingueglia. ah no ha il suo libro, quello di suo torno infatti scusami qui ce l'ha scusami qui ce l'ha scusami qui ce l'ha il ponzo del vattorio per mettere ai mare le barche bellissima una bitta doppia la firma è più famosa il piccolo ponte elevatoio è di prima dove fanno l'allaggio delle barche la firma è di prima la firma è di prima